Le fondazioni di origine bancaria sostengono chi fa del bene e incoraggiano la germinazione del bene. Supportano il volontariato e tutti gli enti, organizzazioni e reti capaci di collaborare e realizzare insieme cose buone e belle per i territori e per il paese. Progetti in campo educativo, sociale, culturale, ambientale e della ricerca. Iniziative che aggiungono qualità alla vita di ognuno di noi. Le fondazioni sono 88, soggetti non profit, privati e autonomi. Le loro donazioni, dal 2000, sono state di 20 miliardi di euro. Avete capito bene? Ora, fermatevi per un attimo. Provate a immaginare se non ci fossero. Le fondazioni di origine bancaria. Un immenso bene italiano.